Ciao a tutti ragazzi, io sono Niki e benvenuti in questo nuovo episodio dei Nikmi di Assassin's Odyssey. In questo video faremo tra i sogni di Teseo, molto facile come... si trova qua, in questo lago, ai piedi della barca, vi interagite e lo completate. Vi faccio vedere dove si trova qua. Proprio da questo punto rapido vi buttate nel lago, andate dritto o poco e trovate la barca. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, se così fosse stato vi chiedo di lasciare like, commentare, condividere il video e iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!